eeeh salve a tutti i sorci in questa puntata potremo vedere che non ho iniziato la solita intro perchè questo è il primo vlog, the first fucking vlog of the channel, oh yes dude tra l'altro ragazzi sto registrando con una fottutissima canon 500d quella che uso per fare i video e come potremo ben vedere, come potremo ben vedere in questo istante possiamo vedere che sto facendo il trasferimento dei file, scusatemi un attimo qui ragazzi sto trasferendo i file per il video che uscirà in teoria domani e quindi guys cosa volevo dirvi, proseguirò questo vlog più tardi, questo pomeriggio credo quando andrò in Ancona perchè oggi è schiaffo ragazzi, ci sta, oggi è domenica, cosa fai? niente, registri, giochi a the forest per andare avanti e stighazzi quindi ragazzi ci vediamo più tardi goodbye bitches allora ragazzi eccoci qua, ritornati giusto un momentino perchè vi farò vedere una cosina piccolina come vi stavo dicendo ho snerdato a the forest e ora vi faccio vedere una piccola anteprima, un piccolo spoiler guardiamo un po' tutti assieme allora ragazzi a parte che è notte però possiamo vedere, guardate allora innanzitutto ho fatto una piccola decorazione vedete? vabbè qui devo sistemare che c'era un bucherellino però come possiamo ben vedere sono abbastanza andato avanti perciò in questo istante usciremo e potremo vedere scusate se sto facendo un po' la mizzeca ma guardate che roba ragazzi, via lozzo e niente potrete osservare il todos nel prossimo episodio che uscirà a breve, perciò ragazzi non perdetevelo, non perdetevelo e tra l'altro guardate come mi sto guardando io, guardate ragazzi tac, comunque ho sentito che c'è qualche bastardo di fuori qua eh c'è qualche bastardozzo ragazzi, close vediamo un po', non credo ci sia niente e vabbè ragazzi, ho sentito comunque, vedete le trappoli lì? ci sono qualche trappolina mistica, malvagia, misteriosa ci vediamo fra poco how to work guys? siamo quasi arrivati in Ancona e c'era un traffico bestiale come potete ben vedere ora vi mostrerò una piccola faccendina guardate ragazzi, guardate assieme ragazzi guardate la gente, guardate la gente guardate, guardate ci becchiamo dopo ragazzi via via allora che guys finalmente sono fottutamente arrivato ragazzi guardate che merda, guardate che merda pieno di merda adesso finalmente vado in Ancona magari faccio due chiacchiere via ci becchiamo con le tipe goodbye guardate ragazzi chi c'è abbiamo un esemplare di Asa che sta al telefono con la madre dai non ti preoccupate tranquilla non è mandata a fangulo ragazzi guardate che gran figata là sopra via via la fai a mettermi a fuoco guarda è a fuoco, non è a fuoco a fuoco no sì 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 guardate ragazzi con questo casino che abbiamo alle spalle sì sì in Ancona già siamo a Natale siamo a Natale tra l'altro un saluto dalle tipe qua a parte quella che si gira ciao ragazzi sono vergognosi cioè nel senso si vergognano preoccupate ci vediamo dopo in macchina una volta arrivati a casa magari la reazione di persone mentre vengono laser con la cresta sto a morire sto a morire non ha visto che non ha fatto cazzo ci sta a zoom a caso è bellissimo stai seguita lo so perso non so che cazzo è uscito che te è uscito non lo so il casino aspetta la fredda allora vai avanti ecco 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 così 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 bravo a posto bravo ok dopo una seconda registrazione ragazzi siamo qui di nuovo per dirvi una cosa cosa che quella di prima è stata una piccola anticipazione di una challenge chiamiamola così in cui vedremo le reazioni delle persone vedendo laser con la cresta camminare per il corso per il corso no vabbè di sera no di mattina magari dove c'è la luce sennò questo fa schifo comunque ho visto un paio di reazioni delle persone che tipo facce a cazzo veramente e no vabbè facce strane e quindi niente ragazzi nel prossimo episodio vedremo cazzo sta facendo no vabbè comunque mi sta a tirare le orecchie per co perché faccio perché faccio gli anni faccio no vabbè a parte quello ragazzi salutati youporn ciao youporn no vabbè ciao youtube vabbè a parte quello niente ci vediamo più tardi molto probabilmente io cambierò reflex perché prenderò una videocamera fatta apposta per fare i vlog però ormai c'è ma se sta pure appeso al braccio capito quindi ciao 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 Ahahahahaha Ci sono, ci sono Good bye Good bye bitches Good bye bitches Provi forte per farlo Good bye bitches Ci stai? Good boy Good bye Good bye Good bye bitches Good bye bitches Dai provaci come se stavolta Ripeti un bicicletta E' un altro ragazzi Pronti? Pronti? 3 2 1 Vabbè ragazzi non è una cosa fattibile Non è una cosa fattibile Sarà per la prossima puntata magari Sì Allora ragazzi Pienalmente sono rientrato nella macchina Dopo averla cercata per un po' Perché non avevo preso il numerino Cioè tipo C3 no? Sono nella linea C3 E l'ho cercata un po' E l'ho trovata fortunatamente Non ho impiegato troppo tempo Comunque ragazzi ho visto che In qualche parte del video è venuto un po' sfocato Ma li metterò lo stesso Perché l'importante è il contenuto Questo sarà il primo vlog ragazzi Ma non sarà l'ultimo Sarà il primo di una grande avventura ragazzi Ricordatelo Quindi lasciate un fototissimo like se vi è piaciuto And now the guys Laser here Conclude this video No E Allora guys Finalmente sono in macchina Dopo averla cercata per un po' Dato che non avevo preso le coordinate Perché sono nella zona C3 E non l'avevo pienamente calcolata Dato che riguardando anche il video Ho fatto molto di fretta Perché ero ansioso e nervoso Dal fatto del traffico Che sono stato a fare un'ora di strada Quando invece ci voleva 35 minuti Perciò ragazzi Se il video è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E commentate ragazzi E Non dimenticatevi Don't forget Don't worry Be a subscriber Diventa un iscritto Come sempre Condividete 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 Senza trombetta And now the guys Laser Io concludo this video Goodbye Bitches Iscrivetevi 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 Iscrivetevi